I soccoritori avevano parlato di tre vittime sin delle prime battute ed infatti i cadaveri recuperati al momento sono proprio tre. Tre di immigrati morti in seguito al ribaltamento della barca a vela nelle acque di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno a nord di Brindisi. Il mare Forza 3 ha restituito il terzo cadavere di probabile origine europea, potrebbe trattarsi di uno degli scafisti della traversata. A trovarlo i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Il corpo è stato ritrovato al centro della conca in cui la barca era affondata intanto nel corso della notte. Salgono invece a 43 i superstiti che sono ora nel centro di accoglienza di Brindisi. Due di loro sono ancora ricoverati nell'ospedale di Ostuni per fratture. Intanto sono partite le operazioni per recupero della barca a vela sul quale hanno fatto naufragio 60 migranti provenienti dalla Turchia. Si tratta di una barca di 12 metri che è incagliata in una delle insenature della frastagliata costa scogliosa di Torre Santa Sabina. Questa mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno controllando intanto i fondali della zona alla ricerca di eventuali altre vittime hanno recuperato vettovaglie e detriti fuoriusciti dalla barca e che sono stati radunati dalle correnti all'imboccatura di una insenatura. Le operazioni di recupero sono state disposte dalla procura di Brindisi e sono state effettuate dall'amministrazione comunale di Carovigno. Sulla scogliera è giunta una gru con la quale la barca è stata sollevata e portata a terra dopo la rimozione dell'albero.